Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Eccola la predella del Perugino mentre viene riportata all'interno della chiesa di Santa Maria Nuova Fano Abbandona i rifiuti lungo la strada prima di traslocare in una città del nord Italia il trasgressore rintracciato e multato dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato Trova il ladro all'interno dell'auto e lo blocca in manette un pesarese di 37 anni Rapido maltempo in transito nella notte con temporali eventi molto forti lungo la costa ma già da domani tornerà il sole In diretta dall'ente carnevalesca la quarta estrazione di un posto al getto che consentirà ad un altro fortunato socio di salire sul carro per lanciare i dolciumi Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri È stata riportata questa mattina nella chiesa di Santa Maria Nuova a Fano la predella del Perugino L'opera è stata esposta per tre mesi in una mostra a Torino che ha registrato circa 72 mila visitatori È tornata al suo posto nella chiesa di Santa Maria Nuova a Fano Questa mattina attorno alle ore 11 la predella ai piedi della paradaltare Madonna con bambino di Pietro Perugino completata dopo un decennio nel 1497 Di ritorno dalla reggia di Veneria a Torino dove era stata quattro mesi per una mostra su Raffaello il sole delle arti dove a documentare gli anni della sua formazione è una scelta di opere dei maestri che hanno avuto un ruolo fondamentale vale a dire il padre Giovanni Santi il Perugino appunto il Pinturicchio e Luca Signorelli La predella sta in questi minuti per essere riposizionata protetta dal vetro e dall'allarme e quindi sarà disponibile nella bellissima cornice di Santa Maria Nuova i cittadini e i turisti essendo ancora un pochino più nota del passato grazie anche a questa mostra non è la prima volta che la predella barca i confini del comune di Fano e quelli nazionali prima di Veneria era stata a Parigi e Buenos Aires ora sarà a disposizione dei fanesi e dei turisti in visita in provincia dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 nella chiesa di Santa Maria Nuova a Fano per visite guidate è possibile contattare lo sportello IAT del comune di Fano nel mese di novembre del 2015 vi avevamo fatto vedere delle immagini così come ci capita a volte nel corso del nostro telegiornale anche grazie alle vostre segnalazioni di alcuni rifiuti abbandonati ebbene quelle immagini hanno suscitato un certo interesse tant'è che il corpo forestale dello Stato che ha sede a Cartoceto gli agenti ci hanno chiesto le immagini a distanza di mesi oggi si è appreso che il proprietario o meglio colui che ha buttato via gettato quei rifiuti è stato rintrecciato e multato voleva trasferirsi al nord Italia insieme alla famiglia e per velocizzare il trasloco anziché chiamare l'ASET ha gettato i rifiuti lungo una strada comunale ma questa volta un uomo sulla quarantina non l'ha fatta franca perché nel compiere il gesto illecito è stato tradito dai suoi stessi errori infatti nei sacchetti neri della spazzatura abbandonati località turnovecchio nel comune di Fano non c'erano soltanto bottiglie di plastica rete ombreggiate una tastiera musicale oggetti vari ma anche documenti cartacei e delle fotografie grazie a questi indizi alle testimonianze raccolte sul posto gli uomini del corpo forestale dello Stato di Cartoceto sono riusciti a risalire al responsabile fra l'altro nei giorni successivi alle festività dei Santi anche alla nostra redazione erano giunte segnalazioni da parte dei nostri telespettatori tant'è che avevamo inserito la notizia sull'abbandono di questi rifiuti all'interno del nostro telegiornale una volta accertata l'identità dell'uomo non è stato semplice rintracciarlo perché si era già trasferito e non erano ancora stati aggiornati i documenti con il cambio di residenza una volta conclusa l'attività d'indagine al quarantenne è stata elevata una sanzione che va dai 300 ai 3000 euro intanto per contrastare questo fenomeno proseguono i controlli da parte del corpo forestale nelle aree della bassa valle del fiume Metaure e del Cesano controlli che avvengono anche in collaborazione con l'ARPAM e la polizia stradale gli agenti ricordano che l'abbandono di rifiuti in alcuni casi prevede multe ben più salate e addirittura se si tratta di oggetti o sostanze che possono inquinare l'ambiente è prevista la denuncia all'autorità giudiziaria vi ricordiamo inoltre che Aset Spa ritira i rifiuti direttamente nelle abitazioni e in modo del tutto gratuito se non sono superiori a due metri cubi mentre ora a causa del comportamento scorretto di questa persona la rimozione avrà un costo aggiuntivo per il comune e di conseguenza per tutti i cittadini la polizia ha arrestato un 37enne pesarese per il reato di rapine impropri e lesioni lievissime il fatto risale a martedì sera quando un uomo è tornato a prendere la sua auto parcheggiata sotto il cavalcavia della stazione ferroviaria di Pesaro ha notato il ladro all'interno della vettura che dopo aver rotto il finestrino stava tentando di rubarla ma non mettendo il blocchetto di accensione alla vista del proprietario il malvivente ha tentato di fuggire a piedi ma in poco tempo è stato raggiunto tra i due è nata una collutazione con il 37enne che ha spintonato e calciato il suo inseguitore il proprietario dell'auto però è riuscito a bloccarlo e a chiamare il 113 il pesarese che è già noto alle forze dell'ordine è stato condannato a dieci mesi di reclusione ma si trova già in libertà la città che cambia Lido di Fano è stato abbattuto uno dei fabbricati più vecchi che negli ultimi anni era stato lasciato in completo abbandono al suo posto sorgerà un condominio di lusso con nove appartamenti un condominio di lusso andrà a sostituire un fabbricato da anni in disuso situato nel piazzale Lamedola Lido di Fano che da qualche giorno ha cambiato volto con l'abbattimento del vecchio edificio i lavori non sono passati inosservati e permetteranno di dare un nuovo aspetto all'ingresso del lungomare Simonetti secondo il progetto redatto dall'architetto Giuseppe Frausini questa sarà la nuova costruzione lo stile del complesso edilizio sarà moderno comprenderà nove appartamenti e per realizzare la struttura in base al piano casa verranno ripristinati i volumi preesistenti questo per evitare ad esempio rifacimento di strade e di nuovi servizi lo stabile era lasciato da anni in stato di degrado e di completo abbandono molti di voi ricorderanno che fino a tanti anni fa la struttura ha ospitato prima un bar poi i negozi di abbigliamento ma anche di articoli da mare proprio qua c'era una panchina in legno mentre in questo piazzale c'era una fermata degli autobus che per quanto riguarda la linea urbana oggi non transitano più le aiuole pubbliche antistantilaria invece potrebbero rovinarsi a causa dei lavori che dureranno circa un anno e mezzo ma verranno ripristinate a spese del proprietario questo però non è l'unico progetto in cantiere a Lido di Fano pochi metri più avanti infatti è atteso un nuovo albergo nell'area dell'ex hotel Vittoria per il quale l'amministrazione comunale ha concluso un lungo iter burocratico la nuova costruzione che in alcuni punti raggiungerà anche 18 metri di altezza avrà una destinazione sia residenziale che commerciale e turistica comprenderà quindi appartamenti un nuovo albergo con una quarantina di camere su 2.500 metri quadrati ma anche diversi spazi commerciali ora spetta solo ai privati scegliere di investire o meno per realizzare il progetto previsto dalla variante urbanistica Adesso apriamo la pagina del tempo perché il centro funzionale della protezione civile delle Marche ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse in cui si segnala il rapido transito di un fronte freddo che porterà tra stanotte e le prime ore di domani rovesce temporali sparsi ma soprattutto anche un forte vento così come ci spiega il nostro meteorologo Francesco Cangiotti di Geometro.it Sì come diceva direttore dopo questa fase di tempo decisamente mite che ha caratterizzato l'inizio di questa settimana in queste ore è in arrivo un fronte freddo dal nord Europa che come possiamo vedere dal satellite è già in prossimità dell'arco alpino e con questa nuvolosità tutta frantumata diciamo che è proprio l'indice dell'aria fredda in discesa dal nord atlantico farà il suo ingresso nel corso della notte sul nostro territorio quindi ci attendiamo appunto per la giornata per le prossime ore nel mattino di domani un peggioramento con rovesci diffusi che anche a sfondo temporalesco che dalle aree costiere via via tenderanno poi a diffondersi sul resto del territorio provinciale e della regione accompagnati soprattutto anche da forti raffiche di vento che nel corso della notte soffieranno dai quadranti nord orientali determinando anche un sensibile aumento del motondoso con possibili mareggiate questa aria fredda e questo peggioramento sarà accompagnato anche da un sensibile calo delle temperature che apporteranno anche precipitazioni nevose come possiamo vedere dalla grafica nella giornata appunto durante la notte nella giornata di domani sono previste delle nevicate anche sulla dorsale appenninica a partire dai 500-700 metri con accumuli al di sopra di queste quote anche di diversi centimetri sarà tuttavia un peggioramento abbastanza veloce infatti già da domani pomeriggio le condizioni torneranno ad essere più stabili con ampie zone di sereno ma tuttavia proprio questo cielo soleggiato nella nottata tra giovedì e venerdì favorirà anche diffuse gelate anche in pianura quindi ci raccomandiamo di prestare attenzione anche alla viabilità soprattutto nelle prime ore del mattino la polizia di stato i baci perugina lanciano l'hashtag una parola e un bacio per dire no al cyberbullismo l'iniziativa è stata organizzata in occasione del progetto teatrale Like storie di vita online che è andato in scena questa mattina al teatro sperimentale di Pesaro da questa sera fino a giovedì grasso torna al teatro della fortuna il comico Paolo Rossi che porterà in scena Molière la recita di Versailles noi questa mattina siamo andati ad incontrarlo questo è il secondo Molière che io ho messo in scena però il primo fu diversi anni fa ed era uno spettacolo più adatto a quel periodo diciamo con una satira molto più come dire più scontata anche se vogliamo perché così andava in quel tempo questa è una ricerca non tanto filologica critica ma mentre stava soprattutto la figura del capo comico di Molière e dei suoi rapporti con il potere e con la sua compagnia era questo che mi ha sempre affascinato il teatro rubare è cosa buona copiare da stupiti Molière rubava dai classici dai comedianti dell'arte dai novelieri italiani e io rilubbo quello che lui ha già rubato ma che altri mi hanno rubato a loro volta sono quegli autori come Shakespeare come Brecht che comunque e altri ancora che sono universali noi passiamo dal 600 a domani mattina in un secondo adesso ci colleghiamo con la sede dell'ente carnevalesca della Fano per seguire in diretta come sempre l'estrazione del quarto socio fortunato che avrà la possibilità domenica prossima di salire su un carro allegorico per lanciare i dolciumi vedo già Simona Zonghetti con il sindaco di Fano e il presidente della carnevalesca Cecchini Sì Marco buonasera siamo pronti per questa quarta e ultima estrazione dell'iniziativa definita un posto al getto vorrei ricordare i nostri telespettatori che questa sera non si chiuderà il tesseramento presidente Cecchini fino a quando ci sarà la possibilità di diventare soci dell'ente carnivalesca e a che quota siamo arrivati siamo quasi a 1300 iscritti è molto importante ascoltatemi bene perché il tesseramento per chi vuol essere votato quindi candidarsi e venire poi a votare nel rinnovo del direttivo che si terrà a maggio scade il 10 di febbraio quindi mercoledì delle ceneri chiudiamo il tesseramento per chi vuol candidarsi e vuol venire appunto a votare per rinnovare il CDA della carnevalesca dal giorno dopo dall'11 invece fino al 30 di giugno continuerà il tesseramento per chi vuol sostenere l'ente carnevalesca e il carnevale di Fano sempre a 10 euro con i benefici che ormai conoscete tutti l'ingresso scontato ai parchi al museo del Bali e al cinema Politeama ma la testa di Fano ecco vorrei chiedere al sindaco di Fano Massimo Seri che cosa è successo ieri in consiglio comunale perché il consiglio ha votato all'unanimità una mozione a sostegno del carnevale del brand Fano città del carnevale beh sì come giusto che sia il riconoscimento della grande manifestazione e la grande importanza che il carnevale ha per Fano non soltanto come evento ma anche come ricaduta economica e domenica lo abbiamo dimostrato in tutti i suoi aspetti la cosa bella è che è stata votata all'unanimità che valorizza il carnevale e indica degli obiettivi condivisi da tutti quanti quindi sono molto contento sono molto contento per come sta andando anche domenica prossima il presidente mi dice che già tutte le prenotazioni sono sono piene tutti i palchi ma anche i nostri alberghi sono tutti su tutti i pieni quindi conferma quanto dicevo poc'anzi per cui veramente andiamo tutti al carnevale anche domenica fra l'altro verranno molte delegazioni da diversi paesi europei dall'Inghilterra dalla Germania dalla Polonia anche questo è un bel segnale c'è attenzione anche oltre confine nazionale quindi viva il carnevale e ovviamente facciamo anche gli auguri a chi verrà sorteggiato oggi che avrà la possibilità di vivere questo momento di emozione che è il getto dal carico io l'ho provato una volta e confermo che è veramente un momento emozionante che invito a provare anche il sindaco conferma allora presidente cominciamo con questa quarta estrazione chi estrarrà oggi? abbiamo il mio vicepresidente Leonelli che è il nostro PR quindi chi vuol tesserarsi mi raccomando sentite a Leonelli Alessandro poi abbiamo i due consiglieri la Maria Rossi che è la nostra responsabile per quanto riguarda la lotteria del carnevale 2016 il prendigetto e Filipponi Daniele che è il consigliere che invece segue tutto il discorso del percorso strutture e compagnia perfetto procediamo? io direi di sì è il sindaco chiaramente che fa da carante è già dato impostazione per poter vedete le urne sono aumentate perché quest'anno questa sera appunto c'è anche le migliaia queste migliaia che io spero grazie a tutti voi di arrivare al fatidico 2000 e poi e poi e poi Presidente venga al mio fianco intanto cominciamo a girare posso così li apriamo una pallina grazie apritela tenetela bene in mano guardate apri il numerino ognuno tenga il suo grazie e poi li avviciniamo così li facciamo vedere bene anche a casa prendete il numero nelle mani il numero eccoli qua vicino Maria Maria vicino eccolo qua il vincitore 0 5 1 4 la tessera 514 ripeto 0 5 1 4 il socio 514 ecco allora adesso andiamo a verificare chi è questo fortunato socio presidente uomo o donna ride lo conosce è un uomo lo conoscono tutti penso penso che abbia fotografato tutta fa è l'amico Gaggi Ilario con la tessera 514 Gaggi Ilario bene complimenti Ilario lo salutiamo anche noi perché sappiamo che è un grande amico di Fano TV grazie anche a tutti voi presidente ci vediamo domani in piazza 20 settembre l'appuntamento mi raccomando non mancate dalle 15 e 30 tutti in piazza 20 settembre alle 16 circa la cerimonia dell'investitura del sindaco che Massimo Seri appunto darà al presidente della carnevalesca le chiavi e la fascia della nostra città e poi comunicherò ufficialmente il nome di chi sarà appunto il sindaco del carnevale 2016 a seguire la performance musicale di Margherita Principi direttamente da X Factor laboratori animazioni e tanto divertimento per una fantastico giovedì grasso dedicato ai nostri bambini ancora a tutti voi fanesi buon carnevale grazie mille Marco a te la linea buona serata grazie a Simona Zonghetti e ai suoi ospiti Fano TV come sempre è la televisione ufficiale del carnevale di Fano domani seguiremo un po' in diretta da piazza 20 settembre alcune fasi di questo giovedì grasso il telegiornale occhio alla notizia è finito grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti